Allora guys, sono qui sul nuovo video, sono Vanni nello 4 maggiori che sono qui su Fortnite, raga Il ciclo contro squadra 2 Quindi raga, oggi non so una partita come potrò uscire, se sirena bene, oppure no Ci ho provato e ho promesso di almeno provarsi a fare il ciclo contro T-2 Non lo so quello che non potrà uscire, vi dico già è una prima partita della giornata, quindi Speriamo bene, spero almeno di arrivare alla top 10 Quindi Tutto va a vedere Andiamo a casa, cerchiamo di fare qualcosa di buono E' bella Allora, ve lo dico subito Che Con la 22 io già ce l'ho provato Qualche volta e non raga che viene I ping raga stanno salendo Raga cosa sta succedendo I miei ping lasciati di stare La sono passati Ma lo dico che con la 22 io già ce l'ho provato E ci sono riuscito così tanto Però una volta che ce l'aveva anche prima Una volta che ce l'ho riuscito Però Non è sempre la tale Cioè non è che ce l'ha forse fare sempre Quindi Lo vediamo Ok, però mi sa bene Che la lina si è alla Raga, non lo so Se con la 22 dovrei utilizzare il topo tattico Siamo automatico Oppure il topo del nonno e mitra Non lo so Perché non so A me basta che è un modo veloce per ucciderli Perché ne sono due Quindi ne prendo due Una volta Eh, non so come fare Eh, non so come fare Oh, la la Addirittura, raga Addirittura Solo che mi serve Oh, cavolo Eh, la decisione Allora, la prima Allora, la prima Questa Dai, raga La mia decisione Sarò pure sbagliato Non lo so Ma Probabilmente sì Ma Tu ne ho ragazzi Ne ho sentito qualcuno Voi che avete Non lo sentite Ma Sì Allora, andiamo Quello ce ne sono qualcuno Non lo so Non lo stavano affetando Oddio, ce ne sono Allora, andiamo 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 Ok, l'agra. Ok. Ok. E la. Mi fa che bello, l'agra, mi saluto. E' una nonostante. E' una nonostante. Eh ragazzi, come mi credo, oggi è. Bene, bene, che partita. Chiedo che sarà da boccanevilla, ragazzi. Che non si succede la trappola. Eh, io muoio da solo. Ok. Andiamo in sabera. In sabera... Un po' di matiagno. ora come dice che non può essere tanto male buon inizio c'è da dire che non si parla nella tutta forza però comunque non è che sia tanto facile tutto qualcosa no sto schiacciando vai il cubetti vai fase che figa ora 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 che sapete più fermi si sa più così c'è più il più visibile ora 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 ok ok dai io continuo a sentire i rumori però cioè lama cosa lama no no caramba va bene perché si calcura la capra non lo vedo ma la scala puoi da qua beccato mettiamo la terra e raga altri due eliminati ma cos'è ma cos'è ragazzi tutte e due cosechino raga 5 kill attenzione partitona il cavolo è nero raga è sempre lui e niente la giornata va qui dai però la personata cosi imparano raga ok ho di scherzando raga provisco questo perché modalità contro tip da due questo che è più comoda così posso sparare entrambi più velocemente si è più comoda solo per con i sentimenti contro i singoli usavo con l'altro venga io sono partita me la carico lo stesso lo dico ho la carico ok 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 raga come avete visto sono molto più molto attivo su youtube come avete visto sto caricando video bocchette più recentemente quindi dai 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 mettiamo questi raga insomma crescere quindi su 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 mi raccomando condividetemi per acerci video raga condividetemi per favore sono veramente belli se no scusate no veramente bello mi sento sono interessanti dai allora allora guarda 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 se ora vedo che il posto ora ma non vuole un po' nessuno raga non vuole più nessuno non vuole più nessuno siamo in 19 ora siamo in 19 ora 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 siamo in 19 ora ancora se io se la anna si la 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 giusta la 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 a a fortuna ragazze del terreno sicuro perchè mettiamo caso che vengono due devo avere fortuna solo a a farlo al centro duro e poi l'altro mi rimane con facilità arancis ora non lo facciamoci fortuna a ver se lo faccio guardare no con la scala era prevista io ho sentito la macchina a ver se lo cura 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 che non c'è il cuore anche il bambino Grazie a tutti No cavolo raga mi sono fatto fare tantissimo Raga mi sono fatto fare tantissimo Questo qua No raga mancava pochissimo per morire questo Vabbè raga io questa partita me la carico perchè mi è piaciuta tantissimo La sono giocata abbastanza bene 5 kg raga potevo fare molto di più ve lo giuro Sono stato un coglione raga Non so come ho fatto a prendere questi corsi Questo qua si poteva fare raga Questa partita qui ci riusciva a farlo Però Va bene raga io ci ho provato contro Tiv da 2 non era così tanto facile Però vi prometto che Il prossimo video sarà contro di un altro tiv da 2 Un'altra volta io si quello contro di Tiv da 2 E di giro raga Spaccheremo raga Quindi raga spero che questo video vi sia piaciuto Dividete un like per favore Se potete commentate E non ci mettiamo in